salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale in questo video andremo a migliorare l'intelligenza il fisico e la freddezza del nostro personaggio allora il metodo migliore per spiegarvelo secondo me è facendovi vedere direttamente una missione così si capisce già molto di più preferisco ecco andare a mani nude a fine video vi spiegherò perché sto colpendo per aria c'è un motivo probabilmente qualcuno lo sa qualcun altro lo scoprirà sarà una bella sorpresa per chi non lo sa già violiamo le telecamere così si spengono tutte insieme è comodo tutte quelle collegate alla rette ecco non sempre mi riesce a fare questi codici mi è già capitato di avere magari 66 combinazioni diverse con solo cinque tentativi quindi per forza dovevo scegliere una o l'altra in questo caso ce l'ho fatta è meglio metterli che io ucciderli a seconda di cosa preferiate fare dopo che ci siamo spostati ci mettiamo a riparo così è più difficile che li trovino perché se lo fate subito rimane lì sul posto poi dovete prendere il corpo eccetera così ce l'avete già allora pinghiamo il tutto ecco dopo che avete pingato è molto importante che selezionate io sto giocando con la play 4 quindi sto usando r3 e sto selezionando i vari vari soldatini che che sono saltati fuori pingando perché sennò dopo qualche secondo spariscono mentre se noi li selezioniamo selezioniamo rimangono lì purtroppo non è molto preciso quindi a volte mi tocca cliccare più 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 e più volte altre volte mi devo addirittura spostare se no non me lo prende ecco ce l'ho fatta e niente lui lasciamolo lì no non va ecco ce l'ho fatta come vedete sto facendo un sacco di punti sia di hackeraggio che di furtività ogni volta che ne mettiamo che ho un soldato lo uccidiamo comunque nessuno ci vede guadagniamo un sacco di furtività ripeto mettiamoci sempre nascondiamoci sempre non siamo in bella vista perché ci sgramano subito il cadavere o il soldatino dormiente come vedete pingo molto spesso anche perché costa veramente poco uno slot quindi tanto vale con un pingheraggio un altro e ricarichiamo subito noi in questa missione tra l'altro dobbiamo arrivare sopra e spegnere la telecamera distruggerla invece tutto un bel giretino da fare vedete averli selezionati all'inizio di una comodità pazzesca cioè li teniamo sempre sempre d'occhio purtroppo a volte mi dimentico di selezionarli e spariscono dopo averli pingati tra l'altro ho notato una cosa che certe animazioni saltano fuori solo se ci avviciniamo ad esempio ecco tipo questo è rimasto lì per tutto il tempo ci siamo avvicinati ha iniziato a muoversi mentre altri seguono una routine ben precisa infatti questo rende un po più imprevedibile il gioco nel senso che non basta stare appostati e studiare il comportamento di un personaggio quando ci avviciniamo c'è caso che faccia una cosa completamente diversa e ci ci prende impreparati guardate appena mi sono avvicinato si è spostato pinghiamo come sempre perché poi ognuno c'è la sua rete magari uno c'è una sottorete salta fuori e altre cose che non abbiamo visti visto la prima volta la mia reputazione e la mia furtività continua a salire anche il livello dai ci siamo quasi siamo vicini all'antenna ecco mi ha sgamato un'altra telecamera lì allora qui adesso taglio tagliato un pezzo circa un minuto e mezzo ho aspettato che salisse questo qui un minuto e mezzo per il discorso dell'imprevedibilità appena su mi sono avvicinato lui ha cambiato completamente il suo giro vi ho risparmiato un minuto e mezzo di attesa ecco ed eccoci arrivati abbiamo distrutto la nostra antenna e ora non ci resta altro che scappare uscire andare via e avremo finito la missione tra l'altro adesso vi devo anche spiegare del perché i puni per aria l'atletica sale se noi corriamo saltiamo e facciamo varie varie attività però vi posso assicurare che il metodo più veloce tra tutti questi è colpire per aria quindi io ci ho fisso una classe vuota e mano a mano che mi muovo da un posto all'altro colpisco coi puni così per aria e mi sale l'atletica guardate fateci caso adesso quindi voi potete stare anche fermi provateci e colpite per aria ragazzi questo è quanto grazie a tutti per la visione spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia utile in un qualche modo per per upare le varie i vari attributi del personaggio grazie a tutti ragazzi e buona giornata